no e bella a tutti ragazzi sono andrea 99 e ci troviamo giù questo nuovissimo video di mickey craft una nuova serie fatta con mickey gamer 02 io non posso recare ma recherà soltanto joe perchè io non reghi il modpac non riesco ad aprirlo proprio pure se l'aprivo non riuscivo a registrarlo naturalmente perchè io sono pro sono un pro della morte di idea lasciamo stare e quindi vedrete soltanto la visuale di joe 99 e 17 perchè riesce a arreccare almeno quindi io parteciperò con l'audio nei seguenti video della serie ma in questo video non ci sarà audio ma solo una musichezza di sottofondo perchè joe si è dimenticato di registrare l'audio al microfono quindi vi lascio vedere anzi sentire pure vedere sentire dettagli vedere sentire il video ciao e a presto a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.